Ciao, nel video di oggi viene da vedere come fare una buona prima impressione con una ragazza. Io sono Gio Di Lorenzo e questo è SeduzioneAttrazione.com Molto bene, come si fa a fare una buona prima impressione con una donna in quelle che sono le nostre interazioni? Beh ragazzi, la pura verità è che questo è un discorso molto molto lungo. Infatti, tanto per farti un esempio, noi possiamo conoscere donne nuove di giorno e di notte e chiunque abbia acquistato i miei corsi sull'approccio di giorno come Carpe Diem e di notte come Carpe Night sa benissimo in realtà che spando su questo argomento per decine di ore e di conseguenza parlarti qui in un breve video YouTube del modo per fare la miglior prima impressione con una donna non è molto semplice, anche per la persona che io non sono francamente con le migliori doti di sintesi al mondo. E se tu mi conosci, invece, sai che non mi piace darti quei suggerimenti stile cazzate da Novella 2000 con tutto il rispetto per la rivista del tipo sii sicuro di te e sii sorridente. Quindi, visto che questo è un veloce video su YouTube, qual è l'elemento più importante di tutti che dovresti ottenere, dovresti creare in quelle che sono le tue interazioni con le donne per fare una buona impressione su di loro, se così la vuoi considerare? Molto semplice, lei se ne deve andare da quella che l'interazione con te è bagnata. E questo è quello che fa sì che lei ti voglia rivedere, aspetti i tuoi messaggi e che i messaggi in realtà non diventino qualcosa di estremamente complicato per convincere la ragazza a uscire con te ma diventino semplicemente un settare la logistica dell'incontro. Purtroppo, però, questo non è quello che accade per la stragrande maggioranza dei principianti. Infatti, i principianti si sono nervosi, si sono spaventati e non vogliono uscire anche se prendono coraggio e approcciano la ragazza da quella che è la loro zona di comfort e di conseguenza questo si trasforma in interazioni platoniche e dove lei neanche sa se è un cazzo o meno. E nonostante ad un principiante l'arenarsi nelle sabbie mobili del rapport possa sembrare un qualcosa di meno rischioso, in realtà è esattamente il contrario perché è quello che va a uccidere l'interazione. E la pura verità è che se tu vuoi fare interazioni ad alto impatto con lei devi necessariamente creare un'atmosfera uomo-donna e questo si fa flirtando con lei e non metaforicamente parlando, nascondendo il fatto che è il cazzo. Quindi il mio consiglio per te è questo. Infatti, presumo che tu sia un super principiante, come lo so, altrimenti non staresti guardando un video che ti spiega come fare una buona prima impressione con una donna. E questo significa anche che normalmente le tue interazioni non portano da nessuna parte. Quello che tu vuoi fare, quindi, è andarti a dare tutta un'occhiata a quelli che sono i miei video gratuiti su come flirtare, come creare attrazione, come generare un'atmosfera uomo-donna, come perché non nascondere il cazzo e se tu sei veramente serio puoi direttamente passare a quelli che sono i miei corsi a pagamento dove spiego in ampio dettaglio tutte queste cose. Una volta che tu hai fatto questo, quello che vorrai fare sarà fare delle interazioni reali con donne e chiederti alla fine di queste Ok, ma quindi ho provato a fare tutte queste cose oppure in realtà mi sono semplicemente rifugiato nella mia zona di comfort che è data dalle sabbie mobili del rapport nelle mie interazioni? Se la risposta è la seconda, tu vuoi capire che le cose così non possono funzionare. Infatti, quello che accadrà, lascia che te lo preveda con la mia personale sfera di cristallo e che tu proverai magari di coraggio a approcciare donne e ragazze ma la pura verità è che loro ti percepiranno troppo come un bravo ragazzo e di conseguenza non sarai quel tipo d'uomo che gliela fa prudere in mezzo alle gambe. E questo comporta con precisione quasi matematica che loro non vorranno portare avanti le cose con te. Quindi, riassumendo, dov'è che tu la fai la prima buona impressione? Beh, in mezzo alle sue gambe. Se lei non se ne va da interazione bagnata, beh, abbiamo un problema. Stop, non scappare subito. Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Quindi, clicca il link a destra per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.